Il corso Excellence Team, creare team ad alte prestazioni in scenari complessi, offre competenze strategiche per formare team coesi e capaci di affrontare sfide in contesti organizzativi complessi. I partecipanti acquisiranno strumenti pratici per favorire la coesione, migliorare la comunicazione e trasformare la collaborazione in un vantaggio competitivo. L'approccio è orientato all'innovazione e all'adattamento, fondamentali per mantenere alta la motivazione e raggiungere performance eccellenti. Un'occasione per trasformare il lavoro di squadra in un asset strategico per l'azienda. Puoi scegliere se seguire il corso in modalità interaziendale nelle date programmate oppure organizzarlo presso la tua azienda, personalizzandolo sulle tue esigenze. Entrambe le modalità possono essere finanziate con fondi impresa o fondi dirigenti.